Ciao, sono Roberto Lacorte, sono il creatore della raccolta immobiliare. In questo video voglio mostrarti questo magnifico rustico di dimensioni veramente molto grandi, come puoi vedere alle mie spalle. È composto da più porzioni indipendenti e sono esattamente tre, più una parte come magazzino deposito. Questo qua è un rustico risalente al periodo della Prima Guerra Mondiale, quindi parliamo dei primi 1900, per cui oggi necessita veramente un grosso intervento di ristrutturazione. Il vantaggio è che come potete notare in fondo, dove è parcheggiata adesso la mia macchina, da questo accesso alle mie spalle, abbiamo un lotto di proprietà di circa 1000 metri quadri. Dal momento che abbiamo questo lotto di circa 1000 metri annesso a questo rustico, con tutte le leggi a disposizione che abbiamo oggi, tra cui anche il piano casa, c'è la possibilità di spostare la volumetria, o meglio, poter effettuare un ampliamento in quel lotto lì e quindi aumentare ancora le unità abitative, oppure potersi creare qualcosa di indipendente. Quindi diciamo che questo rustico alle mie spalle è principalmente un prodotto immobiliare adatto a imprese costruttrici o società immobiliari che vogliono realizzare qualche tipo di intervento moderno e innovativo, come ti mostrerò magari nei progetti che abbiamo già sviluppato e eventualmente tu fossi interessato. Adesso ti do una panoramica di questo lotto in modo che tu possa renderti veramente conto di cosa si tratta e poi in chiusura ti lascio i contatti per approfondire e poter venire in visita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo appena visto il rustico in tutte le sue forme, insomma abbiamo visto che ad angolo e di testa è completamente indipendente per cui si può tranquillamente trasformare in più unità abitative qualora qualcuno volesse anche unire più di una famiglia tutto in un unico stabile, in un unico fabbricato oppure come dicevamo alle imprese per poter fare un intervento e poi effettuare magari la rivendita delle unità già frazionate, quindi alle mie spalle trovate il lotto. Se volete approfondimenti potete tranquillamente chiamare l'810 48 99 che è la nostra agenzia, il nostro ufficio oppure scrivere una mail ad info chiocciola la corte immobiliare srl.it sarò ben felice di risponderti, darti tutti i dettagli che tu desideri, magari accoglerti in ufficio, mostrarti anche qualche bozza di progetto che abbiamo già realizzato per questo tipo di intervento e poter approfondire con te qualora tu voglia eventualmente fare questo tipo di operazione immobiliare. Quindi 810 48 99 oppure info chiocciola la corte immobiliare srl.it dalla Bassona via Gardesane ti saluto e spero di incontrarti presto. Ciao!